E' una prova a non ridere, non ridiamo E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi come promesso, dopo il raggiungimento dei 1500 like nell'ultimo episodio Sono qua ritornato con la prova a non ridere challenge Come al solito ragazzi, prima di iniziare il video vi chiedo di iscrivervi al canale Condividere questo video e lasciare un bellissimo like Se avete qualche try not to love challenge potete anche inviarmela sotto nei commenti Tanto le guarderò sicuramente Ora ragazzi, possiamo iniziare Oh, allora, eccoci qua Try not to love hardest challenge yet Oh mio Dio, ok, io direi subito di iniziare Ok, andiamo avanti perché queste canzoni sono sempre fighissime Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Aspetta un attimo Non dovrebbe far ridere però E' deficiente No, vabbè No, vabbè Immagino che cada malissimo Ah, eh, I don't know Allora, fin qua tutto bene Tutto a posto Non sto ridendo Però ci manca poco Guinness World Record Non ci credo Non ci credo Non ci credo No Mi inchino a lei Mi inchino a lei Buon uomo Ma che cosa ha fatto? Che cosa sta? No, è un coyote Quello è un coyote Un canguro contro un coyote Oddio Boss fight Boom Dovevo rivederla Dovevo rivederla Dovevo rivederla Stava facendo una presa di sottomissione al cane il canguro Ho capito perché Bellissimo Va bene Do something cat Fai qualcosa, gatto Ha scorreggiato Oddio Davvero esiste un horror così? Oddio Samara Se guardi la videocassetta Dopo sette giorni muori Dunkey L'orecchie Dio santo Vi prego Ah, era una prova a non ridere Giusto Quindi non devo ridere Calmo Ma dai Ma non è possibile Non è possibile Non può essere il cane Non può essere il cane Non può essere il cane Quello è un pupazzo Non è il cane Come correva Era per caso Attaquon Titan Basta Basta Troppa epicità Troppa epicità in un solo video Troppa epicità Basta Ok, allora Questa prova a non ridere L'ho fatta Ora sicuramente Proviamo un'altra prova a non ridere Perché ce ne saranno di fighe Tipo Ok ragazzi Dopo quella là Che durava circa 5 minuti Cerchiamo di andare con questa Vediamo Vediamo che cosa potrebbe aspettare Cioè vediamo che cosa mi potrebbe Non so più parlare l'italiano Va bene Allora Trattieniti Perchè? 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 Ok, 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 bellissima No, abbacchitendo No, abbacchitendo Ok Cos'è? Cosa? Sério? Bellissima Cosa sto guardando? Non è una prova a non ridere, ma è una prova a non farti andare un po' per il cervello No, è una buona ragazza, sei davvero bene Stop parlando con lui, ma non le piace Stop Oh Dio Can we do the opposite in a moment, can she control the mouse and you control the keyboard? Oh, good God, ok Go on, can you control the mouse? Yes, she is Move the mouse and shoot people, ok? Ok, how do I do? Uh, that one Oddio Ok Stanno giocando in due praticamente Stanno giocando in due praticamente Oh, she's looking at Let's go All right All right Let's go Oh God Shoot, shoot Shoot, shoot Shoot, shoot, shoot What the fuck? Keep looking at it, keep looking at it, it's like come Oh, shoot, shoot him, shoot him Shoot, shoot him, shoot him Oh my God Oh my God Oh my God Meglio di te, io ho detto Meglio di te Non ci credo Il mio canale è diventato molto family friendly ultimamente, vero? Fanno sempre cose di attacco un titan Oddio No 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 Eccolo Ok, no Questa è fighissima Questa mi farà ridere di sicuro Questa proprio mi farà ridere di sicuro Ti prego, parte, non farla Anzi, non ti prego, uova, non farlo Oddio, che brutta cosa Questa è fighissima 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 Ma stai scherzando? Non ci voglio credere No 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 Raga io provo con i dunk meme perché qua non usciamo Questa è stata geni... Questa è stata geniale altro che Questa io devo mandare a Sparby cacciatore di fantasmi Perchè oggi ce l'hanno tutti con Gesù? Cos'è questa storia? Perchè oggi ce l'hanno tutti con Gesù? Cos'è questa storia? Bene ragazzi io spero tantissimo Che questa prova a non ridere vi sia piaciuta Non ho riso praticamente In questo episodio ho riso qualche 4-5 volte Contate non ho riso Se avete altre prove a non ridere da mandarmi Dimendatemelo sotto i commenti E ragazzi per un prossimo episodio vi chiedo di iscrivervi al canale Condividere il video Mettermi piace a questo video Seguitemi pure su Instagram E noi ci rivediamo al prossimo video Ciao!